Ed eccomi qui, con un cane accanto a me che è russa, pronta a parlare ancora una volta di canzoni della mia adolescenza e della mia giovinezza. Prima di inoltrarci e avventurarci nel testo di oggi, vorrei fare una premessa, in realtà è una premessa che mi rendo conto avrei dovuto fare tempo fa, ma l'ho data quasi per scontata, riguardo un'obiezione che viene sollevata quando parlo appunto di canzoni Bok degli anni 90, anche 80 qualche volta. Ed è, ma non sarebbe più utile parlare di testi contemporanei invece che fossilizzarsi su canzoni che ormai non sono più ascoltate tantissimo? Ecco, in realtà per rispondere a questa obiezione dobbiamo un po' intenderci sul concetto di utilità. Utile a quale fine? Il mio fine, quello che mi sono sempre posta come obiettivo quando faccio questi video, quando parlo di prodotti hip hop, è quello di capire come è stato strutturato il nostro pensiero e come abbiamo lavorato per destrutturarlo. A me interessa sapere come la mia mente è stata colonizzata da alcuni concetti, da alcuni stereotipi e come ho dovuto lavorare per decolonizzarla. Di conseguenza mi interessa la mia formazione, mi interessa capire di quale pane io mi sia cibata nel corso degli anni formativi. Parlare di canzoni contemporanee significerebbe fare una battaglia a quella canzone e in realtà fare la battaglia a quel testo o a quel cantante non è una cosa che mi interessa. Così come non mi interessa rispetto alle canzoni passate, mi interessa capire che lavoro facciamo, abbiamo fatto per liberare il nostro cervello da tutto quello che nel corso degli anni è stato usato per riempirlo. Parlo di canzoni pop, ma si potrebbe parlare di film, si potrebbe parlare di letteratura, ci sarebbe tanto da dire su come, su che tipo di storie ci alimentano durante gli anni formativi, come ci viene raccontato l'amore e anche che ruolo marginale le donne abbiano nei romanzi che studiamo, nelle opere che studiamo quando siamo ragazzi. Mi viene in mente, perché di recente ne parlavo con un'amica, una novella di Boccaccio che anche noi avevamo studiato all'epoca. È una novella che si intitola Nostaggio degli onesti e che parla di un femminicidio. Ci è mai stata raccontata come una storia di violenza? No, non c'è mai stata raccontata come una storia di violenza. Quindi riguardare come il nostro pensiero si è strutturato secondo me ha una sua utilità, per me è utile perché è un lavoro che faccio quotidianamente per cercare di capire come abbia assimilato alcune cose e come stia lavorando per estirparle dalla mia testa. Mi interessa capire come si è strutturato il mio pensiero e quindi perché per tantissimi anni della mia vita Otello di Shakespeare mi sia sembrata una storia d'amore e non una storia di violenza e non un femminicidio. con gli strumenti che possediamo oggi a livello personale e come società possiamo guardare a quei prodotti in un modo più critico ma non con rabbia necessariamente anche in modo divertente nel senso che io quando ho ripensato al testo di questa canzone ho anche sorriso perché mi sono resa conto che sono stata brava però al lavoro, cioè che con quei messaggi lì fatti miei a 13 anni tutto sommato una pacca sulla spalla me la posso dare. Vabbè comunque arriviamo al testo di oggi anche perché è un testo lungo e secondo me però non se ne esce. La canzone che ho scelto è una canzone degli 883. Tutto parte da un ricordo che ora vi racconto perché io voglio che rimanga fisso nella vostra mente per tutto il tempo di questo video. Allora immaginate me 13enne, faccio la terza media, io sono di Cosenza quindi calabrese, che per la gita di terza media me ne parto con i miei compagni e un'altra classe, insomma eravamo tre classi insieme, in Pullman verso la Toscana. Non so quante ore di viaggio fossero in Pullman da Cosenza a Firenze, non ne ho idea, tante, molte. Comunque io e i miei compagni c'eravamo organizzati per sentire della musica durante il viaggio e avevamo portato quell'oggetto che usavano gli uomini primitivi che è l'audiocassetta. Ognuno di noi aveva portato le sue audiocasse. Se non sapete cosa sono cercatele su Google. Una volta appunto gli uomini primitivi e le donne primitivi ascoltavano la musica così. Io nello specifico avevo portato la colonna sonora di Beverly Hills 9210 che non nego fosse la mia fissazione di quel momento, non solo la mia, era una fissazione generazionale. Comunque io ho portato la colonna sonora. La cassetta che abbiamo ascoltato di più però per queste mille ore di viaggio è stata Nord Sud Ovest Fest degli 823. In realtà abbiamo ascoltato anche molto il primo album degli 823 che era a Nocisolo Moragno. Però Nord Sud Ovest Fest, forse era appena uscito, non lo so, comunque è stata veramente la cassetta più ascoltata. Abbiamo cantato a squarciagola per tutto il tempo del viaggio. Ogni tanto dormivamo però, insomma, soprattutto era il viaggio del ritorno. Però, insomma, per tutto il tempo abbiamo cantato questa canzone. La canzone che ho scelto, tra quelle che abbiamo cantato e quelle che fanno parte dell'album, è una canzone che si intitola Te la tiri. Non è una delle canzoni più note degli 823, io non credo neanche sia stata mai un singolo, però nel momento in cui mi sono ricordata di me tredicenne, purtroppo non ho foto, immaginate me tredicenne. Mi sono ricordata di me che canto a squarciagola questa canzone durante il viaggio tutta l'album. Ho pensato che dovevamo parlarne. Prima di leggere il testo della canzone vi devo dare un'informazione. Ho sulle gambe una borsa dell'acqua calda. È uno dei miei vizi, siate comprensivi. Ve lo dico non perché la cosa vi debba interessare, ma perché se mentre io parlo sentite dei glu glu glu, preferisco sappiate che non è il mio corpo che li produce, non che ci sia qualcosa di male, per carità sono un essere umano, però faccio dei rumori anch'io, però in questo caso nello specifico è la borsa dell'acqua calda, ci tenevo a dire. Allora, la canzone come vi dicevo si intitola Te la tiri. Te la tiri è un'espressione che significa che è una persona reputa se stessa più importante di quello che è, si dà delle aree. A guardarlo con gli occhi di oggi questo testo sembra un manifesto di cultura misogina, sembra veramente scritto da un attivista dei diritti maschili. Apro e chiudo parentesi velocemente, MRA che significa Man Right Activist è appunto un movimento che si occupa di rivendicare i diritti maschili. Nasce alla fine degli anni settanta si sviluppa negli anni ottanta in netta contrapposizione con la seconda ondata femminista. È un movimento vastissimo, ha dei suoi riferimenti anche, dei suoi testi di riferimento. Ci sono gli Inzello, c'è la teoria Red Pill, io accenno brevemente, vi dico solo che sono degli uomini convinti che il problema non sia il sistema patriarcale di cui negano l'esistenza, ma il fatto che le donne non riescano più a stare nel ruolo che loro ha segnato e che quindi tentino in tutti i modi di sottomettere il maschio, di snaturarlo anche il maschio. Tutto questo in una società che appoggia le donne e che invece tende a colpire l'uomo, che è responsabile di violenze che non ha commesso, che dal sistema giuridico non viene tutelato perché è di divorzio, bla bla bla. Molto riassumendo, possiamo dire che mentre il femminismo vede il problema nel sistema che opprime tanto gli uomini che le donne, chi appoggia, sostiene il movimento per i diritti maschili ritiene che invece il problema sia della società che tutela le donne e opprime gli uomini. Quindi si viene a creare una sorta di guerra fra i sessi, maschi contro femmine, quando in realtà dovrebbe essere maschi e femmine contro il sistema patriarcale. Questo riassumendo brevemente, magari vi lascio, se capisco come si fa, vi lascio dei testi, degli articoli, qualcosa di interessante sull'argomento se avete voglia di approfondire. Ora passiamo dopo queste 12 ore, bu, chissà quanto avrò parlato, alla canzone. Allora cominciamo a leggere la canzone. Io vi consiglio di ascoltarla perché è una canzone che trasuda disprezzo, è una parola che userò spessissimo, lo so, perché è veramente secondo me il fulcro di questa canzone, per questo vi dicevo manifesto della misoginia, perché c'è proprio un disprezzo per il femminile fortissimo. Ripeto, vi invito ad ascoltarla perché secondo me quel disprezzo trasuda anche dal momento in cui viene cantata. Tu ti vesti da fotomodella, di quelle di Vogue tu ti credi più bella. Faccio una parentesi sul fotomodella perché i ragazzi e i ragazzi miei erano gli anni 90, quindi era l'epoca delle supermodelle, quindi di Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, quindi c'era il mito della fotomodella e della modella. Allora tu ti vesti da fotomodella, di quelle di Vogue tu ti credi più bella. Cominciamo subito con l'imputare una colpa a questa donna, questa donna all'ardire la colpa di sentirsi bella anche se non lo è. Questo concetto che sembra semplice, sembra quasi una roba da niente, in realtà nasconde un tutto testo immenso. Partiamo dall'elogio della modestia. Le donne sono da sempre esortate a essere modeste, esortate a comportarsi in modo non appariscente, a non essere ambiziosi. Quindi tu non puoi avere l'ardire, l'arroganza di sentirti bella. Tanto più che ci ha sempre insegnato la letteratura a cui torniamo a parlare di come siamo stati indottrinati, che a stabilire la bellezza di una donna è un uomo. È un uomo che ti vede bella, non sei tu che ti senti bella da sola, perché quella è una colpa, quello significa essere arroganti. Pensate a tutti i romanzi young adult che hanno per protagonista, ma anche le commedie americane, altra cosa di cui io mi sono cibata quando ero adolescente. In tutte le commedie americane, e ripeto anche nei libri che molti ragazzini e ragazzine leggono adesso, la protagonista perfetta è una ragazza bellissima che non sa di essere bella, che o non si cura a sufficienza, non si valorizza a sufficienza, o semplicemente è una ragazza modesta, acqua e sapone, che non ha contezza di se stessa, non è fiera di quello che è. Per sentirsi bella ha bisogno che un maschio le dica che è bellissima, in quel momento lei diventa bella, prima lei è una ragazza come un'altra che si nasconde anche perché non si ritiene all'altezza delle altre che le stanno intorno. in questo passaggio c'è una, non lo so, un'essenza di patriarcado, è un poco come quando la società tutta si inasprisce e punta il dito contro le ragazze che mostrano il loro corpo, che decidono di sentirsi sensuali, senza che ci sia un uomo o qualcuno che chiede loro di essere sensuali, che sul loro corpo intende speculare, in qualunque modo, quando è una ragazza in autonomia a sentirsi sensuale, a voler esprimere sensualità, quella ragazza è un arrogante, quella ragazza non è modesta. I corpi femminili li possiamo usare in tutti i modi possibili per vendere anche una frigitrice, ma non per manifestare libertà. Questa ragazza che viene raccontata nel testo, e vedremo questo concetto torna, si attribuisce bellezza, si sente bella, viva Dio! E non lo può fare perché deve essere un uomo a certificare che lei si attrae. Allora, tu ti vesti da fotomodella di quelle di Vogue tu ti credi più bella. Passi le ore allo specchio nel bagno, trucco indelebile il tuo grande sogno. Quando vi dicevo che la parola che sarebbe stata più gettonata qui è disprezzo, vi confermo che sarà così. Notate il disprezzo verso il femminile. Passi le ore allo specchio nel bagno, trucco indelebile il tuo grande sogno. Sei così cretina che passi delle ore a coltivare questa passione superficiale, frivola e stupida per il trucco, per una cosa che è una passione femminile. Questo giudicare le passioni femminile come stupide è un po' tipico della nostra società e nello specifico sta perfettamente in linea con un testo che vi dicevo è un manifesto di misoginia. Voi immaginate, ed è una scena che sicuramente vi sarà capitata, di trovarvi davanti. C'è una squadra che vince, uno scudetto, una coppa, quelle cose che vincolano le squadre di calcio, non lo so. Succede il finimondo nelle città. Tutta la notte ci sono persone, uomini nello specifico in gran parte, ma anche donne, che stanno a strombazzare come dei forsennati per le strade. Ci permettiamo come società di dire, ma quanto sei cretino a passare la notte a fare papa sul clacso? Cioè, però invece come società ci permettiamo di dire, e lo diciamo, che le passioni femminili, le cose da femmina sono cose stupide. Mentre, ripeto, fare stare, passare la notte perché la tua squadra ha vinto qualcosa, non lo so, non mi sembra questa manifestazione di grande intelligenza, questa prova di grande intelletto. Va benissimo, le passioni sono così, non si deve per forza avere una passione che salverà il mondo. A me piacciono i rossetti, a te piaceranno le scarpe da ginnastica o le racchette da tennis o le cinture. Ognuno ha le sue passioni, non devono essere niente di importante, però quelle delle donne le colpevolizziamo. Sei una cretina perché il tuo sogno, il tuo massimo sogno non è la pace come dovrebbe essere, ma invece avere il trucco indelebile. Credi di essere intelligente anche se parli davvero demente. Non dirò niente sull'uso di questa parola, sul richiamo alla demenza, erano gli anni 90, non so che dirvi. Comunque, crediti essere intelligente. Ancora, ti stai attribuendo una qualità da sola, è una cosa che tu donna non puoi fare. Devo essere io a dirti al limite che sei un po' intelligente, ma non puoi dirtelo da sola perché non puoi consegnarti un valore autonomamente. Credi di essere intelligente anche se parli davvero demente, perché impegnandoti al massimo riesci a dire se te lo sta bene con i pesci. Perché voi donne siete stupite, pensate all'orosco. Tu invece, chissà, tutti i giorni stai a pensare ai conflitti mondiali, che sono nel mondo. Allora, andiamo avanti. Altra strofa. Qua c'è una ripetizione di parole, cerco di rendermela. Cammini, 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 mini, mia gonna. Facevi prima ad uscire in bikini. Che vi dicevo? Mostri il corpo. Hai l'ardire di scegliere tu di mostrare il corpo. Si vede tutto, di tutto e di più, è tu che tiri la gonna più su. Cioè, mostri il tuo corpo in libertà. Ora, al detto del fatto che guardi una ragazza a cui piace sentirsi sexy, sentirsi attraente, a cui piace mostrare il proprio corpo, tu quella cosa puoi benissimo pensare. A me io questa cosa non la trovo interessante, non la trovo attraente. A me le ragazze così non piacciono. Ma che ti dice niente? Ci mancherebbe, i suoi gusti sono sacrosanti. Ma perché riversare questo disprezzo su una persona che fa questa cosa in assoluta libertà e che non ti dà fastidio? Perché odiarla? Perché è lì la chiave per capire perché questa canzone è misogina. È l'odio nei confronti di questa ragazza che non fa un cavolo, non fa niente, vive la propria vita. Si vede tutto di tutto di più e tu che tiri la gonna più su. Però tu vuoi fare la donna all'antica, quella che ti fa vedere la house, ma poi si tira indietro, non voglio, prima do un occhio al tuo portafoglio. Quando parlavo di MRA, di mondo dell'attivismo maschile, questo richiamo alle donne che vogliono solo i soldi, che cercano solo i soldi nei maschi, che sono interessate solo a questo, combacia perfettamente con quel tipo di filosofo di tornello che te la tiri a a a a a a a, te la tiri a a a a a a un po' di volte. Disprezzo. Con quel profumo pesante da Dio che metti su all'itri lo proverò anch'io per farti vedere che cosa si sente che fa quasi male che infesta l'ambiente. L'odio. È l'odio. È un odio viscerale, è un odio che probabilmente, io non so se sia Max Pezzali l'autore del testo, non ho idea, però è un odio che è come se fosse incomprensibile, cioè lo provi ma non sai perché. È un po', sono un po', è l'odio che è alla radice dell'omofobia, del razzismo, no? È quell'odio che chi lo prova non sa di provarlo, non capisce perfettamente da cosa è motivato, però traspare dalle parole. Questa parentesi, quel profumo che infesta l'ambiente è odio per questa persona. Quando ti passa vicino una donna, con che disprezzo le guardi la gonna? Oddio che gambe, che brutta e dipinta e poi che seno io porto la quinta. Nel mondo che ci viene raccontato di disprezzo per le donne, le donne hanno fra di loro questo tipo di rapporto, la competizione, il rapporto competitivo sul livello fisico, questi si stanno a misurare le tette. Questa è l'idea del mondo femminile che traspare da questo testo. Nel momento in cui decido di raccontarti le donne, scelgo di raccontartele come in competizione per chi è la più bella. Vabbè. Quando dicessi sei l'unica bella, ti credi grande, una diva o una stella? Eccola la colpa di questa donna, la colpa di non essere modesta. Ti credi grande, una diva o una stella? Oggi facciamo tanti richiami alla letteratura e mi viene da citare un romanzo di Goliardo Sapienza che è l'arte della gioia. L'arte della gioia è il più grande romanzo di Goliardo Sapienza, il suo capolavoro letterario. La protagonista del libro di Goliardo Sapienza si chiama Modesta. Si chiama Modesta e si trova, ha un nome in antitesi con quello che lei è, perché lei non è modesta, è tutto meno che modesta, è ambiziosa, è disposta a passare su tutto pur di raggiungere il proprio piacere, la propria libertà, i propri obiettivi. E' tutto meno che modesta. Il fatto che Goliardo Sapienza abbia riflettuto a tal punto sul concetto di modestia, da dedicare la sua opera intera alla negazione della modestia femminile e all'affermazione di che gabbia sia la modestia femminile, secondo me ce la deve dire lunga. In tutto questo testo noi cerchiamo di riportare questa ragazza nei ranghi, deve smettere di sentirsi una stella o intelligente, brava a quello che è, perché dobbiamo essere noi al limite ad attribuirle delle qualità. Lei deve camminare a testa bassa e non sentirsi niente di speciale, perché è questo che le donne devono fare. Ti credi grande, una diva o una stella? Quando ci guardi dall'alto dei tacchi, lo sai che sappiamo che tu tiri i pacchi. Questo concetto si sviluppa in seguito. Questa ragazza è una ragazza, secondo un cliché di visione maschile, che eccita i ragazzi che le stanno intorno, che ha come obiettivo provocarli per poi tirarsi indietro, per poi fare la preziosa e quindi negare quello che in realtà ha promesso con i suoi atteggiamenti. Perché in effetti nessuno ti caga? No, gioia, ci stai scrivendo una canzone su sta cosa. Sei troppo tesa, fai troppo la figa, anche se poi veramente lo ammetto, quando tu provochi sai fare effetto. A me questa cosa fa particolarmente schifo, nel senso che il pensare che si trovi eccitante, qualcosa che ti fa schifo, qualcosa che disapprovi, qualcosa che è disgustoso, non lo so, mi dà una brutta sensazione. Anche perché un concetto che ritornerà poi nella canzone, che arriverà nella canzone, è quello di punizione. Questa ragazza, in tutto che ci viene raccontata la sua storia, è tesa tutta a portarla a una punizione, il karma. Cioè tu ti comporti così, ti dobbiamo riportare sulla dritta via, ti dobbiamo riportare sulla tua strada. Non lo so, a me fa un po' schifo, comunque te la tiri a a a a a a, te la tiri a a a a a, andiamo avanti. Quando vuoi fare, questa è una parte molto brutta, quando vuoi fare la fuori di testa, fingi di bere, comincia alla festa. Io su questo fingi di bere mi sono fatto un sacco di domande, non so cosa significasse, io credo che volesse dire che significa che finge di essere ubriaca, non che finge di bere, perché non puoi fingere di bere, è proprio materialmente impossibile, quindi fingi di essere ubriaca, presumo. Il fatto che finga e che non sia vero, io sinceramente non so come Max Pezzali, o chi per lui dirò Max Pezzali, chiaramente non è Max Pezzali, scusate, capisca che finge di essere ubriaca, io francamente non lo so. Comunque, quando vuoi fare la fuori di testa, fingi di bere, comincia la festa, ridi da oca, sculetti di brutto, che è il disprezzo. E tutti che pensano, adesso mi butto. C'è una ragazza ubriaca in pista? Corriamo! Cioè, questi vedono questa ragazza ubriaca, che ha bevuto, che è sculetta, che fa la cretina, e dicono, andiamo belli, è arrivato il momento. Non so, Madonna Promettente, film che se non l'avete visto guardate. Ma il due di Pic è sempre in agguato, perché lei provoca, però, poi, si tira indietro. E tu scendi in pista con passo felpato. Balli in un modo che non ti centra niente, perché vuoi soltanto arrapare la gente. Questa ha come obiettivo arrapare la gente, per poi tirarsi indietro, per poi lasciare tutti con tanti pensieri. Tu punti solo quei tipi importanti, soldi pochissimi, debiti tanti. Solo che sanno colpire nel segno, e tu che ci caschi nel loro disegno. Questa, vabbè, abbiamo detto, punta solo ai soldi. Quindi solo ai tipi importanti. Però si diverte a eccitare i ragazzetti, qua che stanno lì, questi ragazzetti innocenti che stanno in agguato di una donna che appena si ubriaca. Passano a prenderti con l'ammiraglia, questo uomo ricco con l'ammiraglia, che penso si significhi stendicare la macchina, non lo so, una macchinona, forse l'ammiraglia, perché ne ha tante, non lo so. Poi c'è una frase che io ignoro il significato, anzi se mi volete delucidare. Cene, virgola, taccona, virgola, aragosta e penaglie. Alzo le mani, non ho idea di cosa significa. Comunque, aragosta, quindi fanno cose da ricchi. Quando alla fine li hai conosciuti, ti portano a letto con tanti saluti. Ed ecco qui che il karma fa la sua, compie il suo percorso. Lei non è stata in grado di moderare se stessa, quello che ottiene è che gli altri la usano, che gli uomini la usano. Te la tiri, ha ripetuto per una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto volte. Immaginatevelo. I testi degli otto tre sono, erano anche dei ragazzi molto giovani, erano gli anni 90, insomma tutte le concause, però sono dei testi tutti molto problematiche, la gran parte molto problematica, con gli occhi di oggi, a loro ovviamente no. Ho scelto questo proprio perché secondo me è difficile trovare un testo che trasudi tanto odio per una categoria, perché non è una persona specifica, non è una persona che ti ha fatto del male, non è una persona, una donna che ti ha tradito, una donna che ti ha mentito. Questa è una che si fa i fatti su e balla. Non è una persona che ha un'interazione con te per cui tu ce la puoi avere, è una persona che sta in una discoteca a ballare. Quindi quest'odio è veramente un odio di genere, per questo dico canzone misogina, questo è proprio un odio di genere, un odio per il femminile, per tutte le cose che fanno le donne, per ciò che secondo te le donne rappresentano, per ciò che secondo te le donne sono, sempre alla ricerca di ricchi che ti vogliono arrapare. Tutto molto avvilente. E questa era la canzone di oggi. Ho già in mente quale sarà la prossima, non sono sicurissima, ma penso con un ideuzza. Grazie per avermi ascoltato, grazie per essere arrivati non so che minutaggio e anche lì si è svegliato. Ora vi faccio fare un saluto. Pipi, vuoi? Ho detto sì. E quindi con il canetto più bello del mondo vi saluto e ci vediamo presto. Grazie per avermi ascoltato.